Ho bisogno di una donna! Shhh! Pronti con la musica? Luana! Guarda che farfalla! Ma come te sei vestita? Shhh! Shhh! Benvenuto nella linea erotica a Apriti Sesso. Se linea con la più calda, S che c'è. Il servizio è completamente gratuito. In cambio, le faremo ascoltare alcuni suggerimenti di pubblicità, commerciali. Ora, sceglierà la ragazza. Vuole parlare con Luana? Dica sì dopo il bip. Sì. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Chi sei? Sono Luca. Luca, che voce calda che hai! Da dove chiami? Da San San. Da Sassari, sei sardo. Io adoro i sardi. Senti Luca, perché hai scelto di parlare con me? Luca? Sì? A te piacciono le donne brune o bionde? Non fa differenza. È indifferente. Io so... I tuoi denti sono per denti? Se non li lavi con omatofene, la nuova pasta dentifrice al burro di cacao consigliata dall'associazione Denti. Luca? Sì? Scusami, ogni tanto c'è la pubblicità, ma tu non farci caso. Io sono sempre calda e pronta per te. Che cosa stai facendo in questo momento? Mi sto toccando. Amore, mi piace da morire. Ehi, ciao! Dove vai? Perché mi dai del tu? Diamoci del tè. Hai mai gustato il nuovo tè dell'angelo? Il tè con la rima. Più lo bevi tu e più ti senti... Ciarra! Luca, Luca, Luca... Sì? A che punto sei? Sono duro. Pronto? Pronto. Ma sei solo? Vuoi parlare del vivo con Luciano Rispoli? Chiamali subito al 063720472. Ti rivelerà in diretta i segreti a luci rosse del tappeto volante. Luca? Sì? Ti piacerebbe toccarmi tutta? Sì? Io sono pronta, sono qui che ti aspetto. Sì? Luca, ma tu come sei? Bruno? Sì? Sei il classico uomo caldo che a me piace tanto. Sì? Ti piacerebbe toccarmi tutta? Sì? Quanto? Luca, fai da solo perché è veramente pesata. Cioè... Scusami, Luana, però... Molto scelammaz захi una... Stop! Noi... Noi... telef... Noi... Noi...